Il fatto che o noi capiamo che se ci sia difficoltà o che le cose andano bene ne usciamo solo insieme e serve che ciascuno faccia la sua parte o non c'è nessuno che può da solo risolvere i problemi e capire che noi siamo tutti legati è l'elemento culturale che serve per capire anche che dobbiamo remare tutti nella stessa direzione.